Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha Oggi siamo qui con una challenge di calcio Siamo insieme agli Illuminati Crew E con noi ragazzi oggi ci sono Matt e Bise Matt e Bise! 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 Matt! Che faremo ragazzi? Faremo la sfida dei rigori bendati Quindi ci benderemo e tireremo i rigori a brazzo a rai Che farà più gol vincerà questa sfida Ragazzi arriviamo a 50.000 like per una prossima sfida sul calcio Insieme a tutta la crew e Matt e Bise! Matt e Bise! Ragazzi siete pronti per i rigori bendati? Vai! Primo rigore dobbiamo segnare a brazzo Non ti fa Ok un due tre stella Buoni eh! Fermi là! Buono Matt! Vai puoi tirare! Ok! Della farata però! Io sono il vostro caro C... E il vostro caro Dexter! Posso tirare? Io non so manco lo salavarlo Eccolo gallo! Ecco il gol Ecco il gol... Mic VALO! VALO! Pure VALO! Ciao ragazzi, sono il vostro caro Bise e adesso devo fare gol bendato non la prenderò male però l'ho presa tutta la borsa però l'ho toccata Ciao ragazzi, come state? Bene? Sono con te, ora ci proviamo ciao, ciao AAAAAH! Che? Nooo Cioè è lì la palla è lì la palla No, ma sei sorto è lì la palla Ma come ho fatto? Ma sei lì la palla Sotto le gambe Sotto le gambe Sotto le gambe Sotto le gambe Non me l'ho aspettato, non me l'ho aspettato che attiravamo sotto le gambe Era tutta una tattica Si Ciao a tutti ragazzi, state bene non me ne frega niente io sono il cugino di Mike e adesso vado Aspetta 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 Sor Mino Vai Solmino, vai! Più forte, più forte! No! Aspetta, aspetta! Tutta la forza! La più forte che puoi! Andiamo davanti, davanti! Guardi qua, l'ho sentita! Ragazzi, adesso non ci vedrò più nulla! Mossa da karate! L'ho mosso da karate! L'hai presa! Ancora, ancora! Vado? Vai! Braggio Crew! Vado! Prego, signore illustri, cosa andremo a fare adesso? Ragazzi, adesso aumentiamo il coefficiente di difficoltà perché batteremo il rigore bendati, ma prenderemo la rincorsa girando su noi stessi Che stai dicendo? Io adesso devo girare Girando su noi stessi? Va bene, sì! Sì! Ok? Ce la vuoi fare? Vai! Vado? Sì! Quasi, sì! Però vai! Vai Mike! Coppia a destra! Ooooooooh! Ooooooh! Cazzo, l'ho messo fatto male! Ho segnato! No! No, regà! Vai vai! Gira, gira! Eh dai, giusto! Tira! Vai avanti! Tira! Tira! Sì! Sì! Dai, che bastardi! Guarda! Vaffanculo! Vaffanculo! Sì! Ragazzi, questa volta ce la farò! Sicuramente! No, 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 no! Tutto di corsa! Tutto di corsa! Tutto di corsa! No! Coppia a destra! A sinistra! Sì! GOOOOO! Oh, però l'ho presa! L'ho presa! Ho detto basta, scherzetti e giochini! E mo' si mettono li a... Fa più a destra! Fa più a destra! No, di là, di là! Esatto! Vai, vai, vai! Aspetta! Guarda in alto! Sì! Due passi di ditto! Vai! Sì! 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 Oh, sei segnato! Guarda, 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 guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! 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 Eurogoal! Eurogoal! Neymar! 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 Il campione è in carica! Allora, bisogna essere furdi! Il rumore dell'autostrada è di là! Oh! Oh! Una scienza! Una scienza! Una scienza! Ritamone testa! Vai! Segui il camion! Oh! La freccia! Se Brazo Grusegna, vince! E ci regalerà 50.000 iscritti ai primi 100 che commenteranno qui sotto scrivendo patata su! Oh! Mi giro la testa! Mi giro la testa! Ritamone! Vabbè! Ha lisciato la di poco? Sì! Sì! Ma ragazzi una sfida da bendato molto particolare sul mio canale trovate altre sfide quindi iscrivetevi Vi aspetto ciao bella c'è tutti iscrivetevi anche da me però Questa qua è stata una challenge un po Al buio aspetta silvano è portato C'è da mangiare scusate è stata una challenge divertentissima ci siamo divertiti è partita una gamba ma l'avete trovata Stasse in autostrada ciao ragazzi visto che ho vinto di nuovo devo condividere la mia vittoria con bise perché mette bise Si ringraziamo comunque mike di averci fatto fare questa super challenge al buio e abbiamo vinto Siamo molto contenti è stata l'emozione più bella bellissima della mia vita ciao Vabbè ragazzi dai io direi che per questo video speciale possa essere tutto io ringrazio i miei membri dell'illuminati crew dexter stormino e Grazie anche mette bise per essere stati insieme a me tra l'altro piacere ha anche vinto la sfida Inoltre ringraziamo anche adidas per averci fornito il black and white pack Siamo belli che bella cazzo molto fashion ragazzi passate anche nei canali di questi altri Giovinassi per vedere tutte le altre challenge che abbiamo fatto qui sul campo di calcio 50.000 mi piace prossima challenge o sono tutti a me che ossa alla prossima ciao ragazzi Il pollo ma la polla il passerò la passerà ma tutti quanti amano ma Ma